Quando il Verona ha giocato l'ultima partita in casa Comincia a piovere! Molti, fai! La vita, lei! Non è stranente! Guarda, gol, fai! E' un pò, proposto! Ma alla fine la fate poi? Sì, 12. Ah, in questo modo non date un pacco di cilio? No, ma all'income 12! Buongiorno! Non vei ieri! Bravo, bravo.